Si infiamma anche in Abruzzo il dibattito sulla sentenza Mediaset. Dopo la conferma da parte della Corte di Cassazione della condanna a 4 anni di reclusione per frode fiscale a carico di Silvio Berlusconi, si scatenano le reazioni tra l'agente comune. Se i giudici lo hanno condannato deve accettare la sentenza. Non capisco perché deve avere un privilegio. Secondo me un uomo forte riuscirà a riemergere tranquillamente. Ma uno deve stare a quelle che dicono i giudici. Se i giudici hanno giudicato così vuol dire che la giustizia non ci credo, non ci credo. Io sono con la giustizia. La cosa non è chiara, quindi è sempre la sua legge l'italiana. Penso che sia giusto, sia stato condannato, non è perseguitato. La giustizia va rispettata. Chiaramente una sentenza a metà, questo la dice lunga un po' su come sia la giustizia in Italia. Mai sentito parlare di sentenza a metà, una parte viene proclamata la sentenza, dall'altra si aspetta. Non so, una storia tutta italiana. Più che giusta. E c'è da aspettare la seconda parte. È sempre troppo poco, meritava molto di più. Speriamo che non arrivi la figlia, altrimenti saranno guai peggiori, poveri noi. Grazie a tutti.